E' Bowery? No, è quel nanetto. Non è un nanetto, Sida, è un bambino. Ma che cazzo dici? I bambini non vestono così. Sei uno stronzo. No, la stronza sei tu! Nancy scusami, ti ho chiesto scusa, ho voglia di una bella pizza, sai? E ho voglia di andare via. Sì, Nancy, si può entrare? Ah, che hai portato? Ho trovato poco. Avete qualcosa da bere qua? Forza, sgancia la roba, i soldi li abbiamo. Quasi tutti ce li hanno i soldi, ma nessuno ha la roba. Ho galloppato come un disperato per tutto il giorno. Sono arrivato giù fino a Brooklyn. Come la odio questa città. Ah, hanno già letto questo libro? Su, avanti, tira fuori la roba invece di dire cazzate! Scusa, non ho capito bene, come hai detto? Ti ho detto di piantarla, di dire cazzate! Eh, stai attento come parli, come io non dico cazzate! Volete farla finita? Sono stufo di queste merdate! Dacci quello che hai o va fuori dai coglioni! Calma, calma, stiamo calmi. Vuoi vedere cosa ti ho portato? Guarda un po'. Un bel cerotto nuovo nuovo. Io ti ammotto! Resta dove sei, Sid, me ne sto andando. No, aspetta! A farti fottere, ne...